Buongiorno dalla redazione di Florence Multimedia, in studio Nicola Giannattasio. In A1 in direzione Bologna, rallentamenti per traffico intenso tra Calenzano e il Bivio per la variante di Valico. In A11 fare attenzione per un incidente segnalato tra Monte Catini e Chiesina Uzzanese in direzione Pisa. Sul raccordo Siena-Firenze, scambio di carreggiata tra Colle Valdelsa Sud e Badesse in direzione Siena. Sulla tangenziale di Siena fino al 28 settembre è chiuso per lavori lo svincolo di acqua calda. Sulla statale 1 Aurelia, riduzione di carreggiata, per lavori tra Scarlino Scalo e Rio Torto in direzione Cecina. Sulla statale 3 Bis Tiberina, tratto chiuso per lavori tra Canili e Verghereto in entrambe le direzioni. Morsi Toscana è un servizio realizzato in collaborazione con Regione Toscana, città metropolitana di Firenze e Comune di Firenze. Buon viaggio! Buon viaggio!